Ben ritrovati e ben ritrovati su In Genere Horror, io sono sempre Greg e disponibile su Netflix It's What's Inside, film diretto da Greg Jardin che è un po' un mix come film tra horror, thriller, commedia mescolato soprattutto ad un elemento fantastico che è la cosa principale scatenante di tutta una vicenda che è quella di una festa prematrimoniale in una casa privata di uno dei personaggi protagonisti, so che sono tutti amici che si ritrovano dopo tempo, dopo un po' di tempo e in qualche caso anche in un caso specifico dopo uno screzio, un problema legato al recente passato tra qualcuno di loro. Uno dei presenti propone un gioco con un macchinario, un macchinario che permette di scambiarsi i corpi, non avviene tutto casualmente perché poi con un gioco di, con uno scambio di spinotti che vengono attaccati e incrociati, chi effettua veramente lo scambio, chi ha in mano il macchinario in quel momento sa chi andrà nel corpo di chi, poi però il gioco sarà quello di indovinare chi è realmente all'interno di quel corpo e ovviamente l'unico che non potrà indovinare è quello che ha scambiato gli spinotti che sta comandando in quel momento il gioco ma che partecipa anche lui allo scambio. Una volta scoperto il personaggio, chi è stato scoperto dovrà attaccarsi al petto, puntarsi una Polaroid, una foto con il vero volto di chi c'è dentro, chi è dentro temporaneamente a quel corpo. Tutto bello finché non si inizia a giocare sporco, finché non si comincia ad approfittare del fatto di essere un altro per fare determinate cose che vedremo e poi un fattaccio che andrà ad incasinare il tutto. C'è da dire che quello che va ad incasinare tutto quanto è una cosa decisamente molto molto intuibile, però ovviamente non ve lo dico, da lì in poi una serie di eventi perché lì si scatenerà poi tutto quello che ne verrà. Detta così è un film molto interessante come idea, nel senso che sembra qualcosa di divertente, qualcosa che possa intrattenere. Diciamo che il plot twist della svolta e soprattutto il finale, io lo dico subito, sono troppo intuibili e già scritti e non mi è piaciuto come si sia provato a confondere lo spettatore quando si comincia a dire nomi a raffica sui sospetti di chi ci sia dentro, chi si comincia a mettere le foto dei personaggi che sono stati già scoperti, ma le foto sono mezze dentro la giacca, sono in ombra, insomma si fa veramente fatica a seguire i dialoghi di chi sta parlando alla vera persona, di chi sta parlando al corpo, all'involucro esterno. Di fatto risulta quasi incomprensibile stare al passo con questi dialoghi velocissimi, sulle strizzatine d'occhio, sugli attacchi che si fanno i vari protagonisti, si va talmente veloci con il traccio narrativo che quando si entra nel vivo veramente si rischia di doversi soffermare e pensare chi sta dicendo cosa. Ad un certo punto ci sono un paio di immagini che sono anche esplicative di chi si sta trovando dentro a chi, ma è assurdo che si debba addirittura usare se volete il fermo immagine per riuscire a capire una cosa che rimane in sovraimpressione veramente un secondo e mezzo. Però il film rimane gradevole, anche abbastanza ben diretto, con un'idea interessante e anche se i personaggi sono i soliti stereotipati a partire dall'influenza di turno, la coppia in crisi e il proprietario di casa, quello ricco, quello con problemi, insomma i torti che si sono fatti in passato e tutto già visto e rivisto, anche se per fortuna c'è questo macchinario di mezzo che rende tutto un po' interessante, lo scambio di ruoli che anche questo dà un po' di interesse, come ho detto c'è un fin troppo a confusione, però sul finale lo scambio di ruoli e dei corpi rende il tutto abbastanza interessante. Si lascia guardare, è anche un filino ambizioso nel tentativo di una messa in scena che possa essere efficace, funziona in parte, anche questo devo dire, trascurabile nella parte centrale come ho detto, che serve però per ritmare il tutto e per arrivare a chiudere la vicenda finale che però quella fila liscio a prescindere da tutto quello che accade nel prefinale e nella parte centrale del film. Il colpo di scena sul finale, ahimè, è anche questo film troppo intuibile, anzi questo proprio lo si capisce dopo 20 minuti di film, ma chiaramente non vi sto a dire altro, vi consiglio di guardarlo perché comunque è un film che potrebbe intrattenere, che può intrattenere e io proseguo con una piccola parte spoiler perché vado a dire quello che non mi ha convinto particolarmente anche per poi fare, dire qualcosina riguardo appunto a come si chiude la vicenda. Quindi spoiler da questo momento in poi. E iniziamo con il finale che stavo citando, o meglio di cui non ho detto niente, ma che adesso posso raccontare senza problemi. Cos'è che è facilmente intuibile? Il fatto che Forbes, il ragazzo proprietario del macchinario, non sia realmente lui fin dall'inizio, lo si capisce, purtroppo dopo pochi minuti di film, quindi non è un vero e proprio colpo di scena. È difficile ormai proporre dei colpi di scena veramente interessanti, sorprendenti. Anche il fatto che sarebbe morto un personaggio a metà film, a poco prima metà film, che a scatenare poi tutto quello che ne verrà dopo, era talmente banale e talmente scritto che, insomma, cos'altro avrebbe potuto complicare la vicenda se non proprio il fattaccio, se non proprio la morte di almeno uno. Poi ce ne sono due, ma questo non potevo saperlo, ma uno era scritto veramente sulla pietra. Poi però, nonostante la confusione di scambi che c'è e che comincia ad esserci a metà film, ciò che conta sono alcune cose principali della vicenda. Cioè che alla fine solo due personaggi tornano nei loro corpi, ovvero Shelby e Cyrus, che sono la coppia di inizio film, quella che è in crisi, quella che proprio la loro crisi sfocerà su questo finale dove appunto Shelby lo abbandona anche durante la visita che fa in carcere, perché appunto sappiamo che Cyrus sarà quello che verrà incriminato per riuscire ad uscire dalla situazione del film, l'avete visto, quindi sapete il perché si trova in prigione. C'è un altro finale, cioè c'è il secondo finale in cui la sorella di Forbes è stata nel corpo di Forbes, nel corpo del fratello per tutto il film e questo lo si sa, lo si sa e il fatto che poi si trasferisca in quello di Nicky era un suo desiderio fin da subito chiude la vicenda, questo ovviamente era meno intuibile ed era un po' tutto il discorso iniziale, cioè la ragazza ha usato il macchinario del fratello sapendo che il fratello appunto era stato invitato alla festa e che gli avrebbe trovato la famosa influencer, che gli avrebbe consentito utilizzando il corpo di questa di rifarsi di torti subiti, infatti il tutto è la vendetta, la voglia di vendetta da parte della sorella di Forbes che è stata internata in un centro di recupero e poi il fatto addirittura anche di rubare i soldi al proprietario di casa che è quello ricco. C'è anche un altro discorso che lega poi la sorella di Forbes con Shelby, c'è simpatia, legano perché entrambe hanno subito dei torti, ovviamente diversi ma dei torti e quindi aiuta Shelby a vendicarsi di Sirius proprio nel finale, quindi lo scambio di corpi fa sì che tornino nei corpi originali solamente Shelby e Sirius in modo che Shelby possa finalmente lasciare un fidanzato che ha dato prova di non amarla. Ditemi la vostra come al solito come avete trovato il film, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, condividete il video, mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima.